Nell'incantevole scorcio di piazza Duomo ad Otranto si staglia l'antica cattedrale dedicata a Santa Maria Assunta in cielo. La sua mole è posizionata sul punto più alto del borgo vecchio e sovrasta tutti gli edifici della città. La cattedrale venne edificata dai conquistatori normanni nell'undicesimo secolo, i quali la costruirono nelle geometrie tipiche del romanico pugliese. In alto si presenta il caratteristico rosone, di chiara derivazione gotico-iberica, formato da 16 raggi e traforato finemente secondo i canoni dell'arte tardo-quattrocentesca. A tornare l'entrata si presenta il portale in lecciso, risale al 1674 ed è stato realizzato secondo le consuetudini del barocco lecceso. All'interno della cattedrale si può ammirare una struttura a pianta basilicale dove l'aula è marcata da archi e colonne di granito. Le luci e i colori sono ravvivati dal grazioso cielo appeso ligneo che sovrasta la navata centrale ed è ricco di metalli preziosi come l'oro e l'argento. Ma l'aspetto più suggestivo dell'intera cattedrale di Otranto è certamente il mosaico pavimentale. L'opera artistica ricopre tutta la navata, l'abside e gli ambienti laterali. Il mosaico venne realizzato nel 1163 dal presbitero Pantaleone. Nel pieno spirito artistico romanico, nel mosaico convergono immagini provenienti da culture e paesi differenti, quasi a voler rappresentare l'antica vocazione di Otranto, città di frontiera tra il Levante e l'Occidente. La Cappella dei Martiri custodisce preziosamente le spoglie degli Otrantini decapitati dai turchi colli sul colle della Minerva, durante i terribili fatti del 1480. Nei livelli sotterranei del Duomo si estende l'antica cripta, decorata in epoca normanna. I capitelli che decorano il colonnato sono preziosa testimonianza della storia dell'arte del Mediterraneo. Provengono da luoghi ed epoche differenti e riutilizzati poi come rimpiego secondo le consuetudini dell'epoca romanica. La Cattedrale Idruntina è piena di suggestioni antiche, tra i luoghi più sacri della pietà religiosa salentina ed una pagina illustrata della storia dei popoli d'Europa. Grazie. 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 Grazie.